spezzatino con le patate con le cipolle pomodoro mutti più buono e niente adesso mettiamo a posto lì, mettiamo a cucinare adesso sto facendo le polpette, ho messo il pane cattugiato, ho messo il prezzemolo, il formaggio il pecorino, tre uova e niente, non sto tastando e come si dice, ta 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 eh, lo faccio uno, lo faccio io lo faccio inizialmente, lo faccio così, lo faccio inizialmente ok, adesso posso a cucinare? le polpette, guarda, faccio le polpette, faccio le palline, è una polvola polpetta ora, mettiamo nel sugo, vediamo adesso polpette, mettiamo nel sugo ok, a posto, e poi è pronto, poi facciamo, aspettiamo che è pronto, è finito, come si dice, ta 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 OH!